Che operator ampliando questo discorso di generazione del suono tramite l'utilizzo del disegno delle varie armoniche pari o dispari che si voglia in realtà dà la possibilità di lavorare a un livello superiore proprio per quello che è il concetto di sintesi additiva Cosa significa questo? Significa che andando a disegnare in maniera libera all'interno di quello che è il nostro oscillatore come vedete all'aggiunta di quelle che sono le armoniche cambia la forma d'onda risultante che era quello che avveniva andando a guardare ovviamente quello che era il suono all'interno del nostro oscillatore Allora andiamo ad attivare operator Allora come vedete se io vado a cancellare quelle che sono delle armoniche cambia la forma d'onda che vado a generare meno armoniche ho meno la forma d'onda sarà tagliente e più il suono che genero sarà un suono morbido e se teniamo questo presente per quelle che sono le produzioni dei nostri suoni futuri abbiamo già quella che è un'impostazione abbastanza solida da che blocco di partenza partire da che tipologia di suono vogliamo raggiungere siamo già in grado di decidere qual è la presenza di armoniche all'interno del suono comunque quello che volevo farvi vedere che è all'aggiunta di armoniche varie o andando a selezionare che ne so anche solo il foro in armoniche si vanno a creare quelle che sono delle forme d'onda complesse che vengono rispecchiate tanto dall'oscilloscopio quanto dalla preview all'interno di operator che possono essere salvate se uno fa questa operazione di esportare AMS fare esportare quindi la forma d'onda la forma d'onda viene salvata all'interno di quelle che sono le forme d'onda di operator se io in questo caso vado poi all'interno del mio elenco apro operator su un altro canale, un altro canale midi e vado a cercare tra i miei librerie utente le mie forme d'onda nei campioni e vado a trascinare la mia forma d'onda all'interno dell'oscillatore A l'oscillatore A prende esattamente quello che è la mia forma d'onda anche sull'altro operator quindi le mie forme d'onda possono essere disegnate in quella che è una base di sintesi additiva all'interno di quello che è l'oscillatore salvato e richiamato per utilizzi successivi grazie 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 grazie